Un caro saluto da Mario Gioviaci. Il tempo è previsto per giovedì 7 novembre. Due perturbazioni in azione sull'Italia e quindi un tempo piovoso su molte regioni. Andiamo con ordine, come potete vedere al mattino pioggia soprattutto al sud, nel pomeriggio pioggia su Salento, Calabria, qui saranno forti sulla Calabria, Liguria e Lombardia. Nella sera migliore al sud pioggia su Lombardia, Veneto, Levante, Ligure e Alta Toscana per l'arrivo della nuova perturbazione. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno molto prossime alla norma, soprattutto al centro nord, valori tra 12 e 15 gradi al nord, 16 e 18 al centro, 18 e 20 al sud e solo isole maggiore. Bene, termino qui. Vi ricordo di scaricare dall'on page del nostro sito la nostra app gratuita che è semplicissima da usare.